Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, ancora emergenza in mare per la fuga di migranti dalle coste africane, 41 migranti sono stati salvati a largo della Libia su richiesta del centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, il team di medici senza frontiere a bordo della Geo Barents ha soccorso nella notte il gruppo in difficoltà in acqua internazionali, sono salvi e stanno bene. Sono stati fermati nella notte dai carabinieri tre presunti responsabili dell'omicidio del tunisino di 30 anni ucciso a sprangate all'alba di Capodanno mentre usciva dalla discoteca la dolce vita di Vittoria nel Ragusano, sono due minorenne e un il movente, la frase di troppo che la vittima avrebbe rivolto ad una ragazza. Fiaccolata per la libertà di fronte la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, l'iniziativa è stata promossa per manifestare contro la tragica situazione nelle carceri italiane, numeri allarmanti, 82 suicidi nel 2022, uno ogni quattro giorni, la denuncia delle sigle che hanno aderito al sit-in. Quattro ciclisti di Catania si sono perduti nei sentieri delle Madonie, grazie all'intervento della sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo e della stazione di Palermo del soccorso alpino sono stati recuperati e tratti in salvo. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale, dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico Mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzucco, tradizionale accensione, l'amministrazione comunale. Augura buone feste!